Ah beh, questo l'abbiamo già letto nella live scorso, dobbiamo essere ben preparati ad avere 10.000 dollari per pagare l'affitto, altrimenti andremo a dormire sotto un ponte, che è il rischio che faremo molti di noi nella vita reale. Non mi piace vedere che siamo al 26 dicembre, abbiamo trascorso un bel Natale, ci siamo divertiti tutti quanti insieme, e ora andiamo a fare i cretini. Questa notizia l'abbiamo anche già letta, questa è il mega Natale, quindi non la leggeremo, ma andremo a leggere le varie news. Allora, iniziamo con la prima. Le Olimpiadi di Glitch City ritornano il... prossimo anno. Per il decimo anno consecutivo, le Olimpiadi di Glitch City ritornano all'emblematico Super Silver Thunderdome, questa volta con un illustre rappresentante dell'introvabile nazione, Kani e Vania. Questa mi sembra che è una citazione a Castlevania, no? Non so il perché. Secondo me... Il primo ministro Quincy, in carica nella giuria, ha detto al The Augmented Eye che non è stato facile contattare Ken... Ken... G, eh? E che abbiamo dovuto sottostare a certi loro precetti religiosi per poter vedere alcuni dei loro atleti migliori nella nostra città. La religione del Kenevenia, il Keneism, previsce la presenza di nanomacchine all'interno del corpo. Per questo motivo gli atleti in tale regione devono sottoporsi a determinati trattamenti per respingerle. È una soluzione temporanea, ma fa il caso nostro. Jill. Magari quelle bodysuit non erano pratiche per fare sport. Sì, magari per fare bondage. Non crederete a cosa è successo... Non crederete mai a cosa accade in questo cartone. I cartoni non sono più per bambini, ma va? Cazzo. Ma va? Sono ancora vivaci dei colori sgargianti, ma i temi che toccano sono diventati piuttosto tetri. Ogni cartone inonda ai giorni d'oggi ha i suoi temi cupi. Tanto che gli innocenti personaggi in animazione non esistono più. Forse adesso i bambini sono giovani adulti sin dalla nascita? Ma ecco arrivare Touch Fluffy Tail, amore! Ecco. Ma è Touch Fluffy Tail! Niente. Il tocco della codina batuffolosa. Ma è la codina di Kaori, amore! Il nuovo cartone che mira a divertire questa tendenza. Nessuna storia profonda. Nessun riferimento oscuro per adulti. Stavo leggendo stupro invece d'oscuro, eh. Nessuna stupida narrativa complessa. Solo divertimento con numeri e code batuffolose. Dice un produttore di FT che ha chiesto di maniera anonima per evitare i problemi su internet. Non voglio subire minacce di morte per aver creato un cartone per bambini. Ma che è l'inverso. Eh infatti, For, fermati Gil, io ti ho salvato. Io ti tocco la coda quando voglio. È capito, Gil sta toccando la codina di For. Eh, niente. Io ti ho salvato dalla strada. E quindi ti posso toccare la codina quando voglio. È come fare io con Kaori, no? Eh. Fricodina. Fricodina. Gara su strada Motor City. Le gare illegali nel distretto di Motor City mietano due vittime. Mmh. E il distretto di Motor City è famoso per il numero di gare illegali che si tengono sulle strade ogni settimana. Ma che è... Eh... Fast and Furious. Oltre alle dozzine di piloti feriti ogni anno. Questa volta due persone sono morte durante la gara tenutasi sull'autostrada Gate, conosciuta anche come Corsia Mortale. Mmh. Anche se a questo punto mi piacerebbe più pensare in Isha Aldi. La polizia ora si è investigando sulle due morti, sui legami con il mondo delle corse illegali. Abbiamo diversi sospetti riguardo chi stia tirando le redini di tutto, ma ancora nulla di concreto, dice il direttore del dipartimento della polizia di transito, Ald Augment Eye. Almeno vi giuriamo che le morti di questi ragazzini saranno le ultime. Questa è una promessa. Eh, le ultime parole famose. Ok, arriviamoci di armi e facciamola fuori. Solo Kauri esiste, esatto. Ecco, hai capito proprio tutto. Hai capito tutto, veramente. Eh, vabbè, andiamo al lavoro. Non abbiamo... Ah, giusto, siamo a comprare, raga. Io però non ricordo se l'abbiamo già comprato. Ah, ecco questa, raga. Devo comprare, giusto, giusto. Dalla classica carta dei videogiochi, hick, la sua barba cresce in tempo reale. Eh, questo è un gioco che pure vuole tanto portarvi in live. Ok, intanto l'acquisto è fatto. E ora possiamo andare al lavoro, finalmente. Vedi, amore, vedi la statuetta dove sta? Sì. Guarda il cussore, eccolo qui. Questo sarebbe il protagonista del gioco. Ah. Non so perché a sinistra mi sembra che ci sia un dildo. Poi mi sembra un dildo questo. E niente. Sera. Eh, Gile, gli è... Ah, Gile nel retro... Ah, ho letto Gile. Gile nel retro a catalogare l'inventario di alcuni ingredienti. Ho un sacco di cose da fare, il cane è il comando. Ok, ciao. Che? Un momento, il cane è cosa? Ok, primo ordine. Accarezzami. Ah! No. Accarezzami. No. Comando io e voglio che mi accarezzi. Da che è sta situazione? Mega vuole che accarezzi la sua codina. L'ora di miscelare drink e cambiare vite. Ehi, G. Non ti accarezzo. Lo farei prima o poi. Tutti lo fanno. Ah! Mai. Lo farai. Chiamato? Ha detto Farai, non Gile. Ah! Chi diavola è Farai? Nessuno. Non essere scortese con il povero Farai. Non c'è nessun Farai. Quei che ti faccio un riassunto? Zitto! Chi? Io Farai. Tu ritorna a fare quello che stavi facendo. Va bene. E tu sull'attente. Solo se mi accarezzi. Beh, ciao, Tessinumo. Sì, sì. È una bellissima visual novel. Vedo che questo è il tuo primo messaggio. Quindi, benvenuto. E sì, sono un canale che comunque porta alcune visual novel molto di nicchia in Italia. A volte, in alcuni casi, sono anche l'unico che le porta. e la serie la puoi recuperare, se vuoi, sul mio canale YouTube con lo stesso nome. E oltre a questo, puoi trovare anche altri visual novel e jrpg molto molto golosi. Bene, vedo che siamo belli allegri oggi. Benvenuto al Vala... Virgilio? Buonasera, barista. Come mai quella faccia? Amore, il tuo asbando è quello qui. No. Non sei entrato in scena con il tuo solito sproloquio? Ti dirò, mettere su una sceneggiata può rivelarsi parecchio faticoso. Eh, vai, rubi, vai! Accarezza il buon Virgilio. Accarezza lui, non il doggo. Quindi la tua era tutta una farsa, non era ovvio? Credo di sì. Ti dispiacerebbe se vi è un bleeding gene? Certo. Andiamo a dire bleeding gene, allora. Andiamo, andiamo. Allora, un bronzo, un extra 3, power delta. Olè, tutto shakerato. Olè. Ah, già mi sono dimenticato, giusto? Bisogna aspettare prima di servirlo. E che cosa succede a fare in una live una volta ogni quattro mesi? Eccolo qui, il nostro bleeding gene. Sì, proprio quello che volevo. Allora, stanco di questa farsa, come mai? È una lunga storia, preferirei non parlarne adesso. Ah, ok, tenete il tesino, mi fa piacere. Ma quindi mi hai scoperto tramite... Fanafana Satterbird? Capisco, ma cosa ti ha fatto cambiare idea? A dirlo a tutta, ora sono più al sicuro. La messa in scena del buffone pomposo serviva solo a non destare sospetti. Sicuro? È un termine che ultimamente ha perso il suo significato. Un momento. Quello era il tuo metodo per non attirare sospetti? Sì. Ah, il tesino mi ha scoperto tramite Fanafana Satterbird. Ah, che cosa strana, eh? Quindi ogni tanto YouTube mi consiglia. Penso un po'. Cerchi di non attirare dei sospetti, ma il tuo modo di fare mi convince del contrario. Tutti scambiano il matto per un semplice buffone e lo ignorano. Come faccio io col saccarose. No. No? Cioè, potreste avere ragione nel caso volessi nascondermi, ma io sto solo evitando un certo tipo di folla. Sì, il mio atteggiamento potrebbe attirare l'attenzione degli altri, per poi decidere bellamente di evitare di ignorarmi. E più strane sono le mie azioni, più divento difficile da comprendere, aggiungendo un secondo strato di ambiguità. Complimenti, senza offesa, ma sono caduta nella tua trappola. Giudicavo le azioni come quelle di un folla e bassa. Mi hai fregata, proprio fregata. Dimmi, mi daresti qualcosa di speziato? Certo. Ok. Avete capito? Quindi anche vigilia dei sentimenti. Azz, non l'avrei mai detto. Eh, invece. Tutta cos'è dall'un cojone pazzo squilibrato. Ah, e poi serve con ghiaccio. Ok. Eccolo qui, il nostro bloom light. E così inutilmente marrone. Suona sempre male. Non si è tratta anche tu dal sapore piccante? Ciò che è piccante per gli uomini potrebbe non esserlo per gli animali. Ah! Cavolo, ciò che è tossico per noi potrebbe non esserlo per altre creature. Barissa, a te piacciono le cose speziate? Non mi dispiacciono, credo. Ma non sono neanche una fan. È raro imbattersi in una posizione così neutrale. Tutti amano le cose se speziate o le odiano profondamente? A te piacciono? Parecchio. Non solo per il forte sapore, ma anche per ciò che aggiunge al cibo. Ho sempre avuto questo sogno di aprire un ristorante specializzato in curry. Ah, buono! Buono! E per come stanno le cose in questo momento potrei addirittura riuscirci. Inima giornata. Sono anni che non mangio del curry. Ehi, Barissa. Chiamami pure Jill. Volevo scusarmi. Mi hai sopportato per tutto questo tempo senza perdere la calma. Dovrei scusarmi per il mio comportamento e ringraziarti. Non preoccuparti. In realtà credo di essere stato un po' maleducato l'ultima volta che sei venuto. Anche se ti sei presentato in un brutto momento, ma... Dovrei essere io a scusarmi. Sei un cliente, dopo tutto. Beh, non farlo. Eh, sono soffreso dal fatto che nessuno mi abbia ancora linciato. Non sarebbe io prima a farlo. Però adesso sono curiosa. Virgilio è il tuo vero nome? Forse sì o forse no. Ci sono momenti in cui mi sento come una calamita che attira persone con identità segrete o con passate oscure. Gil, Jamie, tu... Hai detto qualcosa per caso? Farfugliavo, non farci caso. Qualche mi ci fai pensare? Come hai trovato questo bar? Stavo invitando certi individui e mi sono ritrovato in questo vicolo isolato. Hai capito, mo? Come cazzo ha fatto ad arrivare qui? Non ha statistiche. Diciamo che... Bisogna servire bene i drink per raggiungere determinati finali. O comunque per sbloccare determinati dialoghi. Da quando lavoro qui ho sentito la frase E invitavo dei tizi e sono capitato qua. Tante di quelle volte da farmi credere che Il primo proprietario abbia costruito il bar pensando ai fuggiti. Mi fa sembrare un criminale. Non sei stato d'aiuto. Perspensione fuggitivo comunque non significa persone che sfuggono alla legge. Abbiamo accorto clienti che stavano invitando degli stalker o dei creditori. Ho visto persone scioccate più dei venditori porta a porta che del criminale. Forse perché i venditori sono dei veri e propri predatori aggressivi. Non saprei. Amore, io mi immagino che tu arriveresti in questo bar fuggendo da chissà quale stalker. Da te forse. Ah, da me? Ah, è vero. Sì. Grazie mille per la fiducia. Fagli sapere che c'è un bar ed inizieranno a venire. Scusami, dovrei smettere di parlare da solo così tanto. Non è un problema. Tu credi che io sia una sorta di criminale? Come ho già detto non mi sei d'aiuto. Per quanto ne so, tu potresti essere il solito buffone che ho visto nei giorni scorsi. Comunque posso avere qualcosa di amaro? Va bene. Mi faremo adesso un grizzly. Temple. Ok, il tutto shakerato. E' alquanto disgustoso. E' più adatto ai fan del film dove veniva bevuta. Eccolo qui. Andrà bene. Le piace il caffè, signorina barista? Ah, bella domanda. Per quanto possa sembrare strano, ho detto da una barista fumatrice. No, non mi piace. Ah, strano. Di solito chi fuma beve sempre il caffè, eh? Eh, io che bevo caffè odio il fumo. Ah, però a te piace il cibo. Ah, e che c'entra? La cat boomer, l'altro giorno. Amore, la cat boomer. L'altro giorno. Che ha fatto? Ancora spaventato da lei? Non proprio, ma ha un viso familiare. Magari ne confonde con un'altra cat boomer? No, non è quello. E' come la ragazza piena di garze e fasciature dell'ultima volta. O anche con tutte quelle bande c'è qualcosa di familiare in lei. Esatto, nego, la cat boomer. Le risposte di solito arrivano quando smetti di stressarsi. Potrebbe aver ragione. Beh, deve andare il barista. Grazie di tutto. Prego. Benvenuto al Valhalla. Oh, salve, signor detective. No, abbiamo riposto, davvero. Sto sbanduando. Che pal. Ci risiamo, un'altra persona muta che si aggira per il bar. Posso servirle qualcosa? Un gut punch, ok? Un gut punch per l'investigatore di poche parole. Riporto dopo un'operazione di chirurgia, no? Plastica. Così si è coperto la cicatrice. Mannaggia, la misera, ragazzi. Assurdo. Oh, ci sei riuscita. Allora, che succede? Ma l'inconia da vacanze, chiamiamola così. Quindi ha festeggiato il Natale? Perché? Non dovrei? Mi dava quella idea di essere un tipo da Festibus. Perché me lo dicono tutti? Beh, il Festibus è la risposta alla pazzia capitalista rappresentata dal Natale. Hai capito bene, taccagno. C'è qualcosa da dire? Dilla. È un ticchio. Ma seppure, quello che mi ci fa pensare, la sua malinconia non può essere collegata ad una festività. Mal periodo. Un periodo di pazzo consumismo. Il Natale oggigiorno è solo una mera imitazione di quello che era in passato. Che poi in effetti è vero, eh? Voglio dire, ormai tutto è stato preso di mira dalle corporazioni. Lo spirito natalizzo ormai può solo essere manipolato. E' arrivato quel tale, Turbomale, con la sua tradizionale idea di vestirsi da Babbo Natale sul ring. Turbomale, non può essere il suo vero nome di battaglia. Lo è. Davvero, hanno accettato un nome simile? Il suo partner era Buster's Master e di suo nemico il dottor Chris Max. I nomi pacchiani non erano un problema. Cioè, sapeva dell'esistenza di un wrestling che si vestiva da Babbo Natale ogni anno? Oddio! Sapevo anche che lo stesso tizio diventa incredibilmente famoso e che lo stunt presse il controllo. Eh, io di solito ormai bevo il caffè senza zucchero. Anche perché mi sono anche abituato a quell'amaro. Tu purtroppo, Amore, non riesci a bere il caffè senza zucchero. Ma io riesco a bere pure amaro, in realtà. Tutto, tutto riesci a bere? Siamo sicuri? Sì, ma dipende... Boh, dipende quello che mi va oggi. Se mi va l'amaro, mi bevo amaro. Babbo Natale diventa Mega Natale grazie alla famiglia Redmond. Mega Natale impara dei suoi errori e si trasforma nel possente Mega Natale. Per cui ogni impresa ha avviuto l'affare e si getta sul carro dei vincitori. Quindi lei mi sta dicendo che il tizio che riuscita a fare tutto questo... Aveva come soprannome Turbo Male? Fa sembrare la festività uno scherzo. La festività è uno scherzo. E lei vorrebbe farmi credere che non festeggia il festival. Ah, poi do ragazzi il Festivus. Non so perché ho detto festival. Sai che tipo di persona festeggia il Festivus? Agente Scialbe è patetica che sta sempre a vantarsi di quanto siano i migliori. Solo perché celebrano il Festivus. Come quegli idioti che mangiano solo gnocchi e pensano di essere i migliori degli altri. Posso servirle qualcos'altro? Un Fridge Weaver, ok? Ma certo. Mi amore che ogni volta che giocava l'alla mi veniva voglia di fare il barista. Oppure di andare in un bar che fa cocktail. Pazzo. Peccato che poi nella vita reale non troveremo mai una come Jill. Purtroppo. Purtroppo. Che palle. Che palle veramente. Allora, che si dice in città? Cosa dicono le strade? Non dovrei essere io a chiederlo? Nulla di nuovo comunque. Il linciaggio dei White Knight si è fermato. Tutto qui. Sul serio? Sì, non conosco i dettagli. In sintesi la pazienza in seguito all'attacco della banca sta scemando. Io come ho detto altre volte. A me ci sta proprio un... Un bar che prepara dei cocktail eccezionali. Tipo cocktail a sapore di... Popcorn. Che... Ti viene servito questo cocktail che sa veramente di popcorn. E poi ovviamente ti viene servito anche una ciotolina con i popcorn. Oppure fanno anche tipo dei cocktail al sapore di cappuccino e così via. Quale è il problema con cocktail? Ragazzi, ti viene a fare circa 30 euro. Una cifra pazzesca, allucinante. Il mio fratello che ci ha andato dice che i cocktail sono divini. Però ragazzi, 30 euro un cocktail. Non so se porterò me saccarosolì, eh. Perché 30 euro, amore, sono 30 euro. Mmm, peccato. Lo vorrei provare. Perché lo vorresti provare? Eh, ma ho detto 30 euro quanto sono per un cocktail. C'è tante. Sono emersi altri dettagli sull'attacco. Tutti i registri sono stati misteriosamente cancellati. Registrazioni, video, accessi. Tutto scomparso. Ah, hanno voluto nascondere. Qualunque cosa sia successo lì dentro, adesso è diventato un mistero. Mi chiedo se si testimonierà. Eh, lo farà? Ma lo sanno che sei era presente sul luogo? Magari la cancellazione di tutto il materiale la proteggerà ancora di più. Ehi, Barista, tutto ok? Scusi, ero distratto. Oh, e sei la rigora, Lolo? Non c'è molto al di là riguardo. Solo strane dicerie. Il distributore automatico guasto che fulmina le persone. Oppure lo scrittore di The Last Rain in the World, che dicono se è in realtà un cervello in un barattolo. Ok. Ma sono i classici pettegolezzi che senti dai tossici. A volte i drogati potrebbero anche avere l'informazione che ti serve, ma spesso che vengono i cilicaboli sopra le loro ritozzie. Ma che discorsi sono? Dunque, ora vado. Buon anno, Barista. Ah, ma non male che se ne va, amore. I due ragazzi, lui e Vigilo sono i personaggi più rompipalle del gioco. Come si chiama quello che... Cioè, il primo cliente che abbiamo avuto qua, non mi ricordo il nome. E quindi? Ah, il baffetto. No! Non era il baffetto. Era quello che ti ha chiesto se hai mai avuto un orgasmo. Ah, sì. Va bene, non mi ricordo come si chiama. Quello non mi ricordo se era fastidioso, però mi ha fatto ridere... Sì, la domanda dell'orgasmo. Là gli ha fatto ottenere dieci punte. Fammi sapere se viene qualcuno. Ok, andiamo in pausa intanto. Vedete la verità che questa giornata sembra abbastanza corta. Intanto salviamo e riprendiamo. Fuori abbastanza tranquillo. Mi scusi, è questo il bar valalla? Lo è, benvenuto. Quanto posso servirle? Oddio, amore, guarda! Ah, questo... Eh, raga, chi è questa persona? Be capelli. Eh, ma chi è? Allora, questo sarebbe... Un altro gioco. Esatto. E il personaggio... È un cameo, questo. Che viene da, diciamo, tra virgolette, un'altra visual novel a tema cyberpunk. Io come ho fatto a sbloccarla? Eh, avendo fatto comunque determinati requisiti che ho fatto nella live precedente che vi ho anche spiegato. Non vi preoccupate perché quest'altra visual novel la streamerò. Ovviamente non vi dico quale, anche se poi non è che ci vorrà tanto per capire qual è, basterebbe cercare su Google. Tra qualche settimana uscirà il seguito di questa visual novel cyberpunk. Ma va? Ho capito se è proprio un seguito diretto o sono altri personaggi. Io che sono a chi... Me la dovrebbero dare. Me la dovrebbero dare. Quindi... Ah, naturalmente non esiste in italiano, quindi tradurlo dall'inglese in quel caso, eh. Lexi! Eccola! Sto recuperando della roba. Sono da te tra un secondo. Non preoccuparti, intanto mi faccio un drink. Quindi tu sei Jill? Mi conosce? Sono rimasto in contatto con Dana, da quando ha lasciato Neo San Francisco. Mi parla sempre di te e della sorella. E dell'amica a Panama. E della sorella. E della sorella e del cane che ha trovato per strada. Un cane? Sì, credo l'abbia chiamato Gillian. Ma che vuole? Ah! Ah! Non può essere vero. E' la mia volta che sento parlare di questo cane. Già, mi disse che fece capolino sull'uscita di casa ed era tutto malconcio. E mi racconta sempre di quanto sia affettuoso e socievole con le persone. Mi chiese addirittura aiuto per capire da dove venisse. Hmm. Quindi un cane? Eh, guarda chi la chiesa notisce. Che è stato quel rumore? Probabilmente un cane che sta a notiva. Come se posso servirle? Proviamo il Fringe Weaver. Arriva! Comunque è bellissimo esteticamente il suo personaggio, hai visto? Veramente, veramente bello. C'è i capelli che mi ricorda a chi da Street Fighter. Vero, vero. No, è molto bello, ragazzi. Veramente bello. Me coglione. Non vedo l'ora di leggere questa attravisuale 9 che non l'ho mai letta. Benissimo, grazie. Tag, scusami, l'ufficio è un casino, perciò non posso lasciarti entrare. Andrò a comparare del... È concomodo. È la prima volta che la vedo eccitata per qualcosa. Beh, sono più sempre 7-8 anni che non ci vediamo. Ebbe un piccolo trascorso con me nella polizia di Neo San Francisco. No, sono i capelli con il casco. Un'altra strana cosa da aggiungere al passato del capo. Anche se non riesco proprio ad immaginarlo come poliziotta. In realtà era più una collaboratrice. Sarebbe bello se ci fosse anche il capo, amore, come cameo, sai? Nell'altro gioco. Tutti al dipartimento riconoscevano il suo grande talento e ci aiutava di tanto in tanto. Era autorizzata a venire con noi, ma non a prendere iniziative. Non aveva né una pistola e né un distintivo. Solo una radio per contattarci. E non dico bugie, era una dei migliori rinforzi che abbiamo avuto in tutti questi anni. Una volta affrontò una banda di teppisti armata solo di uno sfilatino! Amore! Ax! Ma no, lo sfilatino di pane! No, raga! Ora mi vedo da pochi di sfilatino con la mortadella. Bello, ragazzi, quanto è buono lo sfilatino. Appena sfornato, caldo, caldo e croccante. Ora che altro? Ci manca solo che è pure armato di una matita. Specie dello sfilatino. Come fece John Wick, no? Non mi ricordo, forse più di uno mi pare, forse due o tre uomini con una matita. Sì. Madonna mia! Amore! Sicuramente John Wick sarebbe capace di ammazzarti pure con la gomma da cancellare. Sicurissimo! Ah, due uomini di dubbi si ricorda. Uno sfila... Sì, è da lei. Fece in modo di chiedere lo sfilatino con sopra i semini sopra! Oddio. Ragazzi, sta in attenza allo sfilatino con i semini! Può diventare un'arma! No, vabbè, ragazzi, che capolavoro. Cosa sto leggendo? Quindi la mania di sventolare i panini come spade non è solo una cattiva abitudine! Tra tanti posti, come è finito in un distretto di polizia? La sua vecchia lega. I Grand Slam Fighters stavano combattendo contro i... Tu sei for work, avu! Eh, come? Che cosa? Che Gillo non ha capito? O ha capito? No, secondo me ha capito. Ero lì perché dovevo fare un paio di domande al proprietario della lega. Solo che scoppiò una rissa ed alcuni ubriaconi si uniranno alla festa. Volevo fare evacuare il posto, ma lei si era già occupata del problema. Lo sfilatino l'ammazza e si unicchiò di sopra. Oh no! Mi giuro da oggi non vedrò più gli sfilatini con gli stessi occhi. Soprattutto con i semini sopra. Amo, devo fare un video, mi trovate una penettina e devo dire tipo alla commessa mi dia questo sfilatino, mi raccomando, con i semini sopra. Che devo andare a rapinare una banca. Amo! Con lo sfilatino! Tremiamo se si facesse con Morgiotto questo per evitare la galera. Ah, sono nel bel mezzo di un'indagine. Non credo che questo posto sia sotto la giurisdizione della polizia di Nio San Francisco. No, non sono più una poliziotto, solo una semplice investigatrice privata. Sei venuta fin qui per un caso, non puoi essere una semplice investigatrice. Non è che per caso hai sentito parlare di un gruppo chiamato Swoop Spiders. Mi dispiace, la prima volta che sento quel nome. Non fa niente. Senti, proviamo questo Sugar Rush. Vediamolo uno Sugar Rush. Oh ragazzi, vi giuro, io penso che non era nulla di che questa cliente essendo opzionale e invece mi ha fatto morire da vivere. Si sono impegnati anche qua, anche se è un collab. Sì. Ah, perdono, mi sono confuso un attimo. Eccolo qui. Ok, fanculo, andiamo in un bar e divertiamoci. Capo, lei è già in un bar. Jill, i medici non praticano l'autodiagnosi. Immagino abbia ragione. Ma noi andiamo in un altro bar. Fermi tutti, davvero ha ragione? Calmate, non c'è bisogno di agitarsi. Non stiamo più insieme. Un momento. Vuoi cosa? Ah, forse! Eeeh. Ah! Quindi queste qui facevano le sforbiciate. Io ero annoiata, lei era sola. Provammo. Non funzionò. Ti lasciamo dopo nemmeno una settimana. Ah, però almeno vi siete intanto divertite. Ah, vabbè ragazzi, è tutto normale. Cosa non funzionò? Eh. Era troppo perfettina. Ah! In effetti da quei capelli. Era troppo dana. Troppo dana. Al nostro primo appuntamento la sua testa rimase incastrata in un secchio. Invece di cenare passiamo la notte dal ferramento per levarglielo. Ah! E niente. E niente. Oh, troppo dana. Sì, capisco. Comunque. Non ti vedo da una vita e devi andartene prima della fine dell'anno. Non voglio combinare disastri. Non sforzarti più di tanto. Dico su serio, farei un casino. Beviamoci su una bella essi. Ed io sarei venuto fin qui per bere una essi? Ne ho già a casa. Ehi, questa roba è tipo caviale qui. A causa del prezzo dell'importazione. Accetto la tua offerta allora. Avviati mentre prendo un po' di ghiaccio. Ok. E' stato un piacere conoscerti, Jill. Arrivederla. Ehi, capo. Sì? Lex ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. La nostra relazione? No, io in realtà ero curiosa. Capo, lei è lesbica? Ah! Buonasera. Buonasera a tutta la chat. Erika, grazie mille per i sette mesi di Sam. Grazie mille per il supporto, carissima. Gentilissima. Mi fa piacere vedere intanto Jill che è felice, no? Di sapere che il boss è lesbica. Ah ah. Bellissimo. Eh vabbè, ora sì, è normale. Ci sta un lato attivo. Ah, tu sì, te sì. Ah, quindi tu sei una lei. Pensa che eri un lui. Ah. Ci ho capito bene. Quel io sì, eh. Il kawaii non conosce i confini. Ah, perché quello sarebbe kawaii. Vabbè. Giusto. Ad ogni modo, quello che mi ha fatto riflettere è che lei pensa che Gil sia un cane. Davvero? Ma sì, quando parla di lui, lei crede che si riferisce ad un cane. Gil sta pattugliando di intorno con Nacho e l'altro cane. Ci sarà da divertirsi. No vabbè, nessun problema, Erik. Figurati comunque... Era un gioco anche abbastanza lentuccio quello della sua, eh. Qua già ci stiamo divertendo un botte, invece. Già con la parte dello sfilatino, che è un'arma. Stavo morendo. Ti senti sola? Quella voce. Ehi, Joe, da quanto tempo? Parecchio tempo per la miseria. Sembra passato un anno dall'ultima volta che ti ho vista. Volevo farti visita la scorsa settimana, ma c'è stato un bel casino in giro. Quindi ho atteso che la situazione si calmasse un pochino. Era Joe, sto parlando con te. Se la ignoro se ne andrà. Non sono mica un fantasma. Non puoi ignorarmi così, non ti pare? Allora... Ecco, chi era questa? Eh, raga. Perché ciò ci sta? L'abbiamo vista all'inizio del gioco, mi pare. Non sei proprio sicura? Mi pare. Giuliana Stingray, sto parlando con te. Con te, pardon. Calmati, non cadere nella sua provocazione. Eppure come fa a conoscere il mio nome completo? Pensavo che il tuo nome fosse Giuliana Nathalie Stingray o è legalmente rimosso Nathalie. Hai visto che ha glicciato? L'avete visto? Guarda, 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 vedi che gliccia? Sì. Ah, il diavolo, mi sta leggendo la mente. Sì, cioè, sono tipo scritte in mezzo allo schermo. Difficile non vederle. Va bene, ufficiale, sto diventando pazza. È un modo egoistico di vedere le cose. Ti credi pazza perché non puoi accettare che il mondo sia più sano di come lo percepisci. E infatti, lei appare nel prologo. Qual è il problema? Che il prologo non l'ho iniziato, raga. Cioè, avete capito? Cioè, ho iniziato la novel senza iniziare il prologo. Poi... Verrà streamato anche il prologo, non vi preoccupate. E solo perché tu stai vivendo una certa esperienza non significa che sia una bugia o che tu sia pazza. Voglio dire, guarda la ASMR. No, sono abbastanza sicuro che quello lo direbbe una persona malata di mente. Mi hai riconosciuta? Merda. Ottimo, voglio... Non ti servo nulla. Cosa? Perché? L'ultima volta che sei venuto ho dovuto pulire i drink che ti ho servito dal pavimento. Non fare così. I drink li ho anche pagati con i miei soldi. Non so come tu abbia fatto, ma quello ha rovinato tutti i miei piani per il fine settimana perché ero quasi al verde. Avrei potuto comprarmi del carry con i soldi di quei drink. Missione canna è terminata. Capisco che gli affari non vadano granché, ma per la miseria. Stai bene, mi sembri arrabbiata. Sto bene, ottimo lavoro lì fuori. E ovviamente non la vedono loro. Rieccomi. Ah, capo, che è successo? L'incontro è stato breve. Almeno ho bevuto le bottiglie. Sei bene, sei un po' palida. Tutto ok. Quindi davvero non riescono a vederti. Cioè, sei di fronte a loro. Ed indossi dei jeans sotto la gonna. Che cazzo! Oh, però sono fighi. Cioè, che c'è di male? Molto croccante. Perché? Dimmi, perché? A me piace un botto quando si hanno i jeans sotto la gomma. Anche i jeans quelli corti a pantaloncino. Per dar far sì dalle persone, ovvio. E una nuova moda. Cosa crede di fare? Tutti si sentono a disagio. E tutti te lo fanno notare. Ma puntualmente falliscono. Perché non è poi così sbagliato. E ci sono cose come le ghette, ad esempio. Non dovrebbero esistere. Ma non sono neanche tanto male. Tutti ti osservano. A meno che non siano persone che solo io posso vedere. Potrebbero vedermi se solo lo volessero. Gila, stai facendo un sacco di facce strane. Sicuro di star bene? Ti stavo solo ricordando delle cose. Cavolo, ci manca solo che diventi mappa. Capo, oggi me ne vado prima. E tu rimani qui. Chi rimane qui? Merda, oh. Sei la prima persona che conosco a far confusione con le proprie voci interne. Pensavo di aver visto uno dei cani vicino al bancone. Scusi. Posso finire un po' prima oggi? Certo, grazie per esserti occupata del forte. A me niente. Sei ancora qui. Ti ringrazierò quando te ne vai. Non è quello che... Vabbè. Sì, non ha un braccio, Erika. Ha... Una protesi. Bello! L'ha scritto in rosso. Ecco qualcosa in caso ti fossi sentita sola oggi. Jill ha appena guardato la notte degli raffoni di Eid. Comprare il poster del film le impedirà di distrarsi al lavoro. Buonissima giornata. Fuori ci sono delle gatte in calore. Già, se avesse ancora le palle. Capolavoro! Amore! Capolavoro! Eh, se avesse ancora le palle. Per quelle gattine. Ora mi sono venute in mente le palline di Kaori, raga. Le palline fluffy. Mannaggia la miseria. Se avesse ancora le palle. Eh, niente. Mi immagino fuori che si sarebbe dato la pazza gioia lì fuori. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ecco il poster di un film. L'amato documentario parodia poliziesca. Guardando il poster, Jill è riuscito a levarsi dalla testa Gabby. Anche se solo per poco. Allora, vediamo un po' se ci stanno delle nuove news da leggere. Ah, c'è pure questo da leggere, ragazzi. Vedi visto? Finalmente. Credo un bel po' che non c'era qualcosa di nuovo qua. Va benissimo qui. Il bello fuori che dice, sembra carino. Ad un nerd, forse. Finalmente è qui. Quasi non ci credo. Rendiamo grazie a Dio. Tutti i forum alla dunata. Quali altri forum, idiota? Grande. Altre stupide ragazzine moe. Avrà una nuova stagione, ma il migliore va ancora in onda. La mia linea internet verrà chiusa domani perché non posso più permettermela. Svegliatemi. Trova tu un lavoro barbona. Oddio, si ricomincia. Preparo una cioccolata calda, si siede sul divano, indosso la felpa preferita di Natale, guardo la neve fuori dalla finestra, accendo il riscaldamento, prendo una coperta e si guarda il grosso VV e si addormenta solo alla fine. Io sto comoda. Mi piacerebbe fare lo stesso. Devo lavorare domani. Godetemi lo Yoros pure per me. No, ragazzi, non era VV. Era I-I. Pardon. Era Yoroi. Modern Warrior torna in tv. Qualcuno di voi lo sta vedendo? Io non nemmeno la tv. Ah! Nel futuro? Ma che idio sia Giuliana è vecchia e decrepita. Chi è che parla male della mia waifu così impunemente? Verrà censurato? Non credo. Lo show non è mai stato troppo spinto. Voglio sposare Giuliana. Oh cavolo. Ricordate che guardavo questo show quando avevo dieci anni. credo di aver scoperto il porno grazie a te. Non potrei più scoprire la regola 34. Quindi perché insistere? Mi hai visto in vita mia. È passabile o è solo un meme? È un meme show. Nulla di particolare. Ed i seguiti trasmetteranno pure quelli? I seguiti fanno cagare. Ok. Forti. Treme il labbro. No. A qualcuno è piacere un wrestling qui? Ultimamente sono diventato una grande fan di GSV. È un gran bel prodotto di qualità. Molto meglio di è. Mi piacciono gli incontri di qualità. Ma avrei gradito maggiore importanza alla fascia media. Obbligano ancora... Vabbè. 6x American Kid a partecipare all'evento. Sì. Domani affronterà Yusuke. Perché non punto su The Crit Decay invece? Devo sposare Yusuke. Chi è citata dal campionato femminile? Uno dovrebbe essere l'evento principale. Non questa merda. Il 66 non è malaccio. Guardate quello che fa in Giappone. In dati mi dicono che il 66 stava meglio in Giappone. Ma tutto ciò che vedo sono spranghe e catene. Nullo di impressionante. Il wrestling finto. Incredibile come conosco a tutti i termini tecnici. Eppure non ci capisca niente. Sì. Veramente un capolavoro, Rubi. Peccato che in Italia non ha avuto successo. Biker Gang arrestata per vandalismo. Non era una sviluppatrice di videogiochi. Lei è molte cose. Gang di motociclisti arrestata per atti vandalici durante le proteste. I membri di una delle più grosse gang di motociclisti nel settore di Motor City sono stati arrestati dopo che il leader del gruppo e la sua gang sono stati trovati sul luogo della protesta. Il loro leader, conosciuto con il nome d'arte Christine Love, ha dichiarato alla stampa che sono stati arrestati ingiustamente e che la sua gang era presente solo per difendere la gente dei White Knights. Hanno paura di noi. Pane che non ci possono battere sulle strade. Loro hanno usato come scudo i manifestanti e noi abbiamo dovuto arrenderci. Dice Love Artai durante una conversazione telefonica. Ora sono in stato d'arresto in attesa di processo. Al momento non si conoscono le accuse formali. Il Parlamento discute l'influenza degli anime. Ah, sì, argomenti importanti e tutto il resto. Durante l'insolito incontro tenutosi oggi in Parlamento, i delegati hanno discusso gli effetti degli anime sulla popolazione. Non è altro che spazzatura. Charpame, guida un esponente del partito dei lavoratori durante la seduta. Se potessi strangolare ogni sceneggiatore e animatore, lo farei. Li strangolerei con le mie stesse mani meccaniche. Molti produttori di anime hanno risposto a questa notizia. Credo che li bandirebbero se non portassero così tanti soldi, ha detto il produttore Yamakei al Augment Eye durante un'intervista telefonica. È vero che gli anime di oggi fanno schifo, ma salverò questo genere. Fidatevi di me. Sembra il tipico giornale italiano. Esatto, Rigo. E niente. Taylor, il cervello è stanco dalle continue di chieste di cambiare il suo nome. Un paio di settimane fa aveva scritto di Taylor uno dei cervelli del progetto Solanima. Uno dei punti di interesse in quella intervista che è stato, purtroppo, rimossa dalla versione completa, era un commento sul fatto che intanto chiedono regolamenti a Taylor di cambiare il suo nome in Brian. So che la gente cerca di essere divertente, ma non cambierò il mio nome solo per fare notizia. Dice Taylor al tipico di Tai. Mi piace il nome Taylor, così come non c'è nulla di male nel chiamarsi Brian. Voglio solo essere lasciato in pace. La mia vita conta più di questo. Taylor, ora sta pensando di candidarsi a senatore nella prossima campagna elettorale. Sicuramente saprò fare di meglio, eh. Vabbè, raga, io direi di andare al lavoro, no? Tu che dici? Mmh. Però per sicurezza mi faccio una salvatina. E siamo al 27 dicembre, raga. Il giorno del mio compleanno. Cazzo. Eh, mo. Pensate che Saccarosa lo dimentica ogni anno. Ma non è vero. Non è vero? Eh, Gil, per domenica organizziamo un bel party di Capodanno. Non è un po' presto? Come mai? Qualcuno di famosi è stato ucciso ad una festa di Capodanno? No, cioè... Lascia stare. Comunque sì, ci verrò. Grande. E Gil? Viene anche lui. Non c'è altro da fare dopo tutto. Grazie, grazie per gli auguri. E' una ventata dove sta? Stava accompagnando una delle sue clienti alla stazione. Dovrebbe tornare a momenti. Rieccomi. Visto? Allora, Gil, vieni pure tu al festino di Capodanno. Oddio, ragazzi, ci è stato il delirio a Natale. Figuriamoci a Capodanno. Siamo persone depresse. Ah, la ragazza dell'altro giorno. Gabby, se ben ricordo, mi ha dato questo per te. Credo sia una lettera. Prima di tutto vorrei scusarmi per il nostro ultimo incontro. Era ancora nervosa per la morte di mia sorella. E non ritengo giusto sfogarmi su di te. Tanto meno addossarti le colpe. Ah, meno male. Lo so, può sembrare sano chiederti una cosa simile dopo ciò che è successo. Ma desidererei parlarti. Voglio capire e discutere con te di quello che abbiamo combinato prima che abbandonassi il bar. Voglio comprendere questa tua libertà, la paura che ti ha portato a litigare con mia sorella. Ritornerò il 31. Non voglio rubarti troppo tempo. Se non avrai voglia di incontrarmi, ti capirò. Ma ti prego, ho davvero tanta voglia di parlarti. Guarda, la ragazza sa come scrivere. È sempre stato intelligente. Il 31 è scritto con una calligrafia differente. Oh, giusto, mi ha chiesto quando potevi essere un po' più libera ed io le ho parlato della festa. Ho anche azzardato una tua sicura partecipazione che a ben pensarci non è stata una buona idea. Capo, forse cambio idea per la festa. Cosa? Perché? Perché non voglio incontrare di nuovo Gabby. Adesso mi viene in mente cosa mi spinse in tutti questi anni a non tornare a scusarmi. Paura e vergogna. Vergogna perché sapevo di aver fatto un errore ed è doloroso affrontare i propri sbagli. E paura della reazione. Po' lei non l'avevo troncato del tutto. Quindi temevo che se l'avessi incontrata, lei mi avrebbe respinto. E non voglio che Gabby mi confermi tutto questo. Madonna e po'. Quanto mi ricorda Saccarosia? No. Lenore aveva tutto il diritto di lasciarmi e Gabby di odiarmi. Non voglio che accada. Magari se non la rivedo non potrà dirmi che Jill... Idiota! Stai ragionando al contrario. Nella lettera non ha forse scritto che volevi conoscere le tue motivazioni. Se la eviti allora ti odierà per davvero. Hai tra le mani una seconda possibilità. Non passare il resto della tua vita a scappare dai ricordi? Non avevi detta alla tettona che odiavi se indietta in quel modo? Tettona? L'hacker tettona. Alma. Ah! Amore, te la ricordi? Ah! È la biricchina. Non so cosa sia successo quando hai litigato con la sorella di quella ragazza. Ma ora hai possibilità di fare ammenda. E poi anche noi altri a darti una mano. Quindi voglio che ragioni su questo. Un giorno di paura o una vita di rimorsi? Cosa scegli? Eh amor, tu cosa sceglieresti? Mmm... Boh. Cioè saccarotto ci pensa pure. Forse è il giorno di paura? Mazza. Non ti credevo così disfattista? Ok, finalmente si lavora. Cavolo però, questa è la seconda lettera che mi sconvolge alla vita. La seconda? Due settimane fa ho ricevuto un'altra lettera da Lenore. Quella che mi strappassi dalle mani mentre ti impanico? Sì. Non l'hai ancora aperta? Perché non la leggi con Gabby? Stai affrontando le tue paure. Tanto vale aggiungere pure questa. Vedremo. Cavolo non insista troppo. Certo che no. Sono solo fiducioso che sei in grado di farlo. Vado a raccattare della roba per la festa. Chiamatemi se avete bisogno di qualcosa. Ah, è arrivata a stella, mo. Ah. Abbiamo organizzato una festa per lo staff e dei loro figli. Avresti dovuto vedere i volti dei bambini quando ricevevano i regali. Ordinare quel costume da Babbo Natale all'ultimo minuto ne vassa la pena. I costume da Babbo Natale sono andati a ruba quest'anno. Ho sentito a dire che ormai sono introvabili. È stata una carenza di costumi, ma sono stata fortunata. Perdono lo sfogo. Perché? Sembrava infelice e mi è contagiata. La felicità non va nascosta. Comunque, mi servisse un Cobart Velvet, per cortesia. Bene. Sei venuto con sei. Dovremmo arrivare a momenti. Mi ha detto che voleva farsi un drink. Dato che comunque era la mia destinazione, purtroppo non posso rimanere a lungo. Ocuno è facendo da sbrigare. Come si sente, sei? Meglio, le ferite sono guarite ormai. Se solo la smettesse di grattarsi così spesso le bende. Che mi dici dell'occhio? Occhio? Oh, il suo, scusami. Ci vorrà del tempo a guarire, ma finché lo medica correttamente non dovrebbero esserci problemi. A dirla tutto non sono più preoccupata per lei a livello emotivo. Non sembra, ma di tanto intanto mostro a segni di depressione. Oh, ma sono tutti depressi qui! Come dalle tolto, la sua vita è completamente cambiata. Il lavoro che amava non esiste più. È stato usato come una pedina sacrificabile nella faccina della banca. Ho paura che le faccia ricordare i vecchi tempi. Passò un brutto periodo quando era una ragazzina. La clinica di sua madre era sull'orlo del fallimento. Dopodiché il padre biologico, che era uno stronzo, si fece di nuovo viva. E gli insegnanti della sua scuola non erano d'aiuto. E, sai, non è lenta nell'apprendimento. Il suo metodo di studio è periculiare. Oddio, ragazzi, perdono. Ha bisogno di confronti per le cose che conosce. Per capirle bisogna rilazionarsi con il suo modo di pensare. Fatto questo, assimila subito le nozioni da imparare. Ma la scuola non ha tutta questa pazienza. La volarono come fallimento. Abbandonò pressione di studio. No, mo! No, no. Volevo consigliarle un corso speciale d'altrove, ma avevo purtroppo di offenderla. Ha sempre rifiutato l'etichetta di speciale o diversa. Comunque Sei era tutta un'altra persona durante quel periodo. Arrabbiata, trasandata. Sempre a lamentarsi, l'esatto posto di quella che è oggi. Dando in dando mi cavete di incrociare quel suo vecchio sguardo e mi spaventa da morire. Però la stai paraguantando a quando ero una ragazzina. Le persone maturano. Forse a volte mostrerà dei segni che ti preoccupano. Lo scommetto è che Sei non si lascerà mai più abbindolare dal passato. Tipico delle scuole. Chi necessita più tempo ad imparare viene abbandonato. Una classe non può rallentare per una persona... Eh, però è un po' uno schifo, non vi? Mi daresti una bevanda fredda ma dolce? Eh. Dolce e fredda. Un déjà vu. Ovviamente il Moon Blast, no? Dolce e femminile. Allegro. Ah, forse già d'intentivo per la vitamina C. Ah. Il tutto shakerato è servito con ghiaccio. Ok, qua shakerato vuol dire che... Facciamo un attimo a aspettare. Dai, shaker, shaker, shaker! Vai. Ecco. Grazie. E il tipo di drink che sei è solito e ordinario, lo sapevi? Non è che me lo dici. Quando sei in Gomparve, questo fu il primo posto che visitò. Oh, sì, me l'ha detto. Mi fa piacere che abbia trovato un viso amichevole dopo tutto quel caos. Ti ha parlato della nostra discussione nel reto del bar? Su cosa? Beh, nulla di importante, ma... Era a pezzi, sai? Impaurita, stanca. È stato un duro colpo per me. Non solo per le ferite, ma anche per il ricordo di una persona solare che avevo di lei. Sì, tesi, stiamo a leggere... Anche i Gurashi, che lo devo anche continuare in live. E poi, sì, ho anche letto alcune visual novel, diciamo, per fatti miei. Sì, leggo molte visual novel, comunque. Sono, diciamo, uno dei pochissimi italiani che legge visual novel in Italia. Ah, ci volevo ringraziare Stella. Quando l'ho rivista mi ha detto che l'hai tranquillizzata un pochino. Io? Credo che con tutto quello che è successo è il desiderio di non farmi preoccupare se è stato un peso per lei. È già successo. Quindi è stato un bene che abbia trovato qualcuno con cui sfogarsi. Grazie. Dubito di aver fatto qualcosa di così rilevante. Quindi figurati. Mi chiedevo, come fai ad essere così a tuo agio nella parte bassa della città? Cioè, le strade non sono sicure, anzi... Una cat boomer attirerebbe l'attenzione! Ah ah ah! Ho lo staff della sicurezza sempre vicino a me, quindi il problema non si crea. Tra l'altro, questa parte della città è comoda. Come scusa? Ovvio, la parte superiore è più pulita e forse più sicura, ma anche troppo sterile. Da queste parti... Riusci a sentire il calore delle persone. Adoro soprattutto i chioschetti del cibo. Avverto un calore che non riesci a percepire ai piani altri. Ed è anche più facile parlare con le persone. Finalmente sei arrivata. È arrivata sei? Sì, infatti i tesi... Spesse volte traduco anche i giochi dall'inglese all'italiano, perché purtroppo i giochi che piacciono a me... Quasi sempre non sono mai tradotti in italiano. Se provo a parlare con qualcuno della zona superiore, o ti fanno spalluccio oppure ti ignorano. Le persone qui sono un po' sospettose, ma facilmente approcciabili. Infatti Rubi, io per questo spero che... Quando farò il video, no? Annunciando il Patreon e creando un nuovo canale... Dove mi focalizzerò nel fare video recensioni o comunque approfondimenti su questi giochi... Magari arriverà qualcuno di nuovo... Che magari non mi ha neanche mai conosciuto e magari... Finalmente si riuscirà a creare una community... Uniti che segue questi videogiochi... Boh, io sono ancora speranzoso, nonostante sono passati praticamente 12 anni... Da quando sto su YouTube... Speriamo... Non che le cose più vadano meglio, per carità... Posso servirti qualcosa? Te la direi una birra... Ah beh, lei è sempre sul classico... Fanne due... Ma io ne voglio solo una... Una è per me... Oh, giusto... Sai, come cazzo è fatto a non capirlo? Bellissimo Morgana... Te sì, molto bello... Quello è molto molto bellino... Quello pure magari sarà un prossimo progettino, eh... Però prima devo fare... I gurashi... Devo... Devo completarlo... Se no... Rubip non sarebbe contento... Allora, due birre per le ragazze... E birre siano... Ok... Una fatta... Facciamo la seconda... E' bello te, sì... Gurashi, eh... L'anime è fatto benino... Però... L'ha visto la novel... Ha tutt'altro spessore... Io invidio chi... Non ha visto l'anime... Perché con la visual novel... Diretta... Si... Tiene secondo me... Una migliore esperienza... Poi il problema di Ryukishi... Zero Nane... Che è troppo prolissa a volte... Sei avresti dovuto vedere i bambini... Dopo che te ne sei andata... Giocavano tutti con i giocattoli che hai scelto... Hai fatto scendolo anche quest'anno... Ma... Ma allora sei... E Crystal... Ti dimostri il suo amore per i barbocchi e le barbocchie... Wow... Ha già... Lo spirito... Da madre... Mi chiedevano tutti... Dove sei? Dove sei? Un attimo... Dove è Crystal? Dove è Crystal? Perché ti chiamano solo Crystal... Mentre io sono zia... Ruby? Ah... Non sono così vecchia... Eh... UmiNeku pure è bello... UmiNeku... Però... È molto pesanto MNeku... Non preoccuparti... Ti adorano come sempre... Comunque mi fa piacere vedere che ci stanno... Comunque vedi... Italiani che mi stanno scoprendo... E che anche loro... Leggono Visual Novalo... O comunque giocano... A JRPG... Mi fa sempre molto piacere... Penso che... In Italia siamo... In pochissimi... Scusami se sono andata via prima... Ma la mamma ha lavorato tutta la notte... E non poteva lasciarla da sola... Ci sono stati fuochi d'artificio... Che qualche cane ha ben pensato... Di nascondersi in un barattolo... Oh no... Il piccoletto è riuscito ad inserire... Testa e zampe prima di rimanere incastrato... Ed era di plastica... Quindi non potevano romperlo... Bel casino... Aveva bisogno di qualcuno... Che tenesse fermo il cane... Mentre operava... Il poverino era spaventato... Ok... Per me basta così... Oh giusto... Stiamo organizzando una festa... Il capodanno per domenica... Se volete venire... Tanto sei... Si parla sempre di argomenti... Felice e contente... Assicuro... Meglio che deprimermi... Con mio padre... E le sue preoccupazioni... Sull'anno fiscale... Io ci sarò... Ciao Jill... Ciao Seri... Fa' attenzione... Ci si vede... Ti va di venire? Ti piacerebbe... Così mi rifaccio... Per non essere venuta l'altra volta... Che avete fatto poi? Avevo giocato ad obbligo in verità... Madonna condori di amore... Eeeh... Che capolavoro... Fatto un po' di casino... Rotto dei bicchieri... Mangiato parecchio... Ma parecchio parecchio... Ripensandoci... L'ammontare di cibo era ridicolo... Rispetto al numero dei presenti... Meglio nel pancino... Anche nel cessino non credi? Aaaaaah... 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 Cosa posso servirti? Proviamo qualcosa di elegante... Ok... Qualcosa di classe per sé... Facciamo a loro... Un cobalt... Perfect... Agitato... E servito con piaccia... Qualcosa di elegante... Sì, perfetto... Nella sembrava... Quanto soddisfatta di domenica... Questa domenica... Ah sì... E sai... Il suo compleanno è proprio il 25... Davvero... Ti racconto un piccolo aneddoto... Di quando era piccola... Madonna è nata il giorno di Natale... E ha capito... E ha capito... È stato il regalo perfetto... E secondo me... Crystal partorirà il 25... Perché... Il parto sarà per lei... Un bel regalo di Natale... Venne a sapere... Della storia di Babbo Natale... Siccome lei era nata il 25... Si convinse di essere la reincarnazione spirituale... Del Babbo Natale originale... Perciò iniziò a consigliare doni in lungo e in largo... Poi se ne fece una ragione... Ma la voglia di fare doni è rimasta... La storia insegna che la famiglia Redmond... Abbia distrutto lo spirito natalizio... E come Babbo Natale... Si è rinato in qualità di spirito delle feste... Credeva di essere il vecchio Babbo Natale... In un nuovo corpo... Ah... La reincarnazione... Di Babbo Natale... Di Stella... Ma tu... Hai capito? Ok... Eh... Quella ragazza sognava ad occhi aperti da giovane... A proposito della tua infanzia... Bella mi ha confessato di essere preoccupata... Per un tuo ritorno alle origini... Qualcosa su di un bruttissimo periodo... E di quanto sei arrabbiata con il mondo... Oh... Quello... E' carino da parte sua preoccuparsi per me... Non ritornerò ai vecchi tempi così... Da un giorno all'altro... Anche se dovesse affrontare la stessa situazione... Sono più matura... Non credi? Dubito di essere ancora una ragazzina... E' quello che penso anch'io... Ehi... Mi daresti qualcosa con le bollicine? Certo... Che bello ragazzi, eh? Quante cose che si possono streamare, eh? C'è proprio l'imbarazzo della scelta in tutti i sensi... Allora... Dai, facciamo qualcosa di frizzante per una ragazza frizzante... Dove non può... Un altro Hobart Velvet, no? Io vedi, ho scritto frizzante... Blu, le mille bolle blu... Sarà sicuramente un adattamento italiano del cazzo... Sì... No, Cristal, semplicemente... Perché tengo la caramella in bocca... Tutto... Tutto qua... Eh, Giro, vuoi sapere come ha fatto se la procurassi quell'occhio? Non penso che dovresti... Ti ha raccontato la mia storia... Ciò che significa che le piace abbastanza... Nessun problema... Ti ricordi quando ti raccontai di essere stato salvato da un White Knight? Allora, la lista... Proprio la lista, no, Tessi... Diciamo che... Se vuoi sapere... I giochi che io... Ho streamato, registrati... In tutti questi anni... Basta che vai sul mio canale YouTube... Vai su Playlist... E vedi un po'... Se invece poi... Vuoi sapere i futuri progetti... A volte non dico sempre... Quello che voglio fare per... Per lasciare suspense... Riguardo alla salitore... A quanto pare stava scappando dopo aver fatto una cosa... Non saprei cosa... Eravamo al parco... E ci prese come ostaggi... Ad un certo punto... Mi sentarono di avvicinarsi a lui... Ma... Strappò via l'occhio di Stella... Oh mamma mia... Provai a fermarlo... Ma riuscì ad allontanarmi con un calcio... Lo ricordo ancora quel calcio... Le ossa rotte... Provavo dolore in posti... In cui nemmeno pensavo fosse possibile sentire dolore... Di tanto in tanto... Ancora oggi rivivo quel momento... Il calcio nello stomaco... Le urla di Stella... E inquietante... Madonna... Ma tu mi immagini amore a perdere un occhio così... Mi presi conoscenza poco dopo... Quando mi sentì sollevare da terra... Il Wain Knight che ci aggredì... Era a terra immobile... Io ero sulle spalle di un altro Wain Knight... Si sfilò all'emetto... E l'ho miso in testa ad una stella dolorante... Svegni al mio risveglio... E ero in ospedale... Il calcio mi fracassò un paio di organi... E quindi mi mandarono in rianimazione... Mi fa piacere che ne lo sto raccontando... Con serenità... Quindi presi solo perché Stella... Prendeva a funghi la mia gamba... Intimandomi di aprire gli occhi... Cavolo... No se no sarebbe rimasta probabilmente in coma... Cioè cavolo... E che media tutto questo? A causa dell'uomo che è venuto la volta scorsa... Credo sia colui che ci salvò... Non ci credo... Virgilio... Davvero... Virgilio... Cosa te lo fa pensare? Certo ha messo su qualche chilo... Ma sono abbastanza sicura che sia lui... Oddio... Ora dovevo pentirci... Ma è questo per il culo Virgilio... Eh già... C'è qualcosa nel suo volto... Che non riesco a dimenticare... Magari il punto interrogativo sulla fronte... Acciuffettino... Mi piacerebbe rivederlo... Sai come posso fare? Conosci il museo steampunk... Chiedi di Virgilio... Perfetto... Va bene basta per oggi... Grazie di tutto Gillo... Ci si vede? Gillo... Io vado in pausa... Ok... Madonna mia... E io mi sono immaginato il dolore ragazzi... Mamma mia... Bruttissimo... Mi chiedo se la ciotola di forra è piena... Eh mo ci vai a pensare al tuo Michos... Oddio... Così... Che bellissimo jump scare... Che ci fa Dorothy... Così... Tanto per... Non riuscirei ad attraversare il bancone... Puoi anche smetterla di camminare... Ah... Dolcezza... Vuoi qualcosa? Di solito credo... Solito... Sosso... Oddio... Di solito... Mi chiedo a cosa stia pensando comunque... Allora facciamole un piano... Che bello ragazzi... Quando si vede la waifu... E comunque mi piace come viene trattato... Il sesso in questo gioco eh... Cioè con naturalezza... Ok... Agile fa riposare... Eccolo qua... Che buono... Buono... Oddio... Buono... Ok... Mi stai spaventando... Che ti succede? Ehi dolcezza... Come fai a sapere se qualcosa è reale? Come? Cioè come fai a sapere se quello che vedi corrisponde alla realtà? Come fai a percepire quello che succede intorno a te? Chi ti dice che non è tutta una messa in scena? Chi mi dice che non sono solo una simulazione al computer? Sì... Questi pensieri ti hanno condotto al bar? Cosa? Oh sono al bar? Ma lo sono per davvero? Dorothy... Hai le allucinazioni mistiche? Misticosa? Mistica... I viaggi della mente del subconscio... Misticosa... Vedi che sono... Doverdi una brutta parola... Ah no... Vedi è solo un altro mistero... Quella parola... Mistico... Cosa significa poi? Da dove viene? Deriva dal latino eh... Tima da dove viene? Non vorrei farmi credere che un gruppo di persone abbia deciso di emettere un suono... Per poi dire... Ehi facciamo che questo suono significa questo... Mistico... Non ha senso... Le parole non hanno senso... Ripeto continuamente le parole ed hanno iniziato a non avere senso... Perché? Calma... Di solo semantica... Smettere di creare parole... Dolcezza... E poi c'è questo bancone... Come faccio ad essere sicuro che il bancone sia davvero qui? Lo è... Per cortesia smettila... Tamburellare... Un momento... Solo per essere sicura... Dovrei farle un drink... Nel peggiore dei casi... Avrei comunque qualcosa... Da tirare in testa... Allora ragazzi... Indovina cosa... Indovina cosa le darei amore... Il room... Liquore del nonno... Smettili da amburellare così forte sul bancone... Sono attanto così da buttarti questo in faccia... Un figlio di room... Scusa... Ripartiamo dall'inizio... Da quando hai queste crisi esistenziali? Stamattina credo... Ero lì a ricordare dei bei tempi con la mam... La mia tutrice... Ma non so... È successo all'improvviso... Stavo pensando tutto quello che è successo durante la settimana fino ad oggi... Quanto mi sono divertita... E quanto volevo bene a tutti... E tutto ad un tratto... Dei pensieri si sono fatti in strada nella mia mente... Cos'è l'amore? Cos'è il divertimento? Anche si sta... Ma se ne è andata umana... Ma poi mi ricorda... Aegis... Da Persona 3... Sono reali questi sentimenti... Quello che mi circonda è reale... Io sono reale... Chi mi dice che davvero mi trovo in un corpo? E se fosse un computer che crede davvero un corpo? E se fosse una ragazza umana... Che si trova in coma... E se sono sognando? Chi mi dice che tu sei reale? E quanto ne so... Potrei semplicemente essere il ricordo di qualcuno... Oppure potrei essere la simulazione di qualche IA... Che si crede umana... Io sono qui... Dorothy... Quei dubbi esistenziali e le crisi... L'incertezza di essere reale o meno... E' stato solo per un paio di mesi ma... Ricordo gli attacchi di panico... E di grattarmi le braccia per sentire qualcosa... Ma gli attacchi di panico mi causarono una scarica di adrenalina... Quindi non uscivo a sentire le braccia e la paura... Peggiorò... E se fosse un personaggio di un videogioco... Brava Erika... La rottura della quarta parete... Come hai fatto a riprenderti? Ti sembrerà strano? Ho letto un libro... L'ultima pioggia nel mondo... Uno dei miei preferiti... Ad un certo punto pianzi con il libro in mano... E pensai... Stavo piangendo per cose false... Una storia ed i suoi personaggi... Me ne fregavo del fatto che erano farsi... Perché non applicare lo stesso ragionamento... Alla realtà? Anche se fossi il ricordo di qualcuno... Comunque ti vorrei bene... Questo è quello che pensai... Non fu una cosa immediata... Ma la concentrazione aiuta... E mi piace... E posso bere questo drink? L'ho fatto per te... Grazie allora... Ah ma... Ah... What? Ma sei buttato il rumo in testa? Ah... Perché te lo sei versato in testa? Puoi sentire qualcosa che hai creato? E... Brucia e brude... Ti porto un asciugamano... Consegne per Danazza... Oh... Sono già stato qui in passato... Signor Mario... Ben tornato... Oh... Ah... Mi ricordo di lui... È arrivato a... Anzi è arrivato... È arrivato Akira... Con... Con la moto... Dubbi... Dubbi sulla propria sessualità... Diciamo... Sì sì esatto... Se mi ricordate... Ho una consegna per Danazza... Chi è? Il mio capo... Chi lo darò io? Va bene... Una firma qui... È un bel pacchettone... Di che ricordo ci sia dentro? Dovresti aprirlo... Se fosse qualcosa di indiperibile... Forse mi convene metterlo in frigo... Vediamo... È una salsiccia... What? Una salsiccia bella grossa... Oh no... Sei svegliata... Ma... Cioè... Allora... Salsiccia bella grossa... Leggete Jill... Leggete Dorothy... Ma allora abbiamo tutti quanti capito... La stessa cosa... E mo... Mario cosa penserà? Che dolcezza... Ma che fai quella faccia? No... Non tengo quella... Salsiccia bella grossa... Quel pacco... Una grande salsiccia... A sua interna... No... Pacco... Salsiccia... E NIEEEENTE... Cosa ci deve fare il vostro capo... Con un simile mostro? Ah... Boh... Non so come la cucinerà... Magari affettandola... Dolcezza... Forse la salsiccia è troppo grande... Per ingoiarla... E NIEEEENTE... Eee... Smettila... Perché non ne cucini un pezzo adesso? Che dici dolcezza? Puoi assaggiare il salsiccione del capo? Aaaaaah... Aaaaaah... Oddio... Ragazzi... Ma questo è un capolavoro... Ma come fai a non aver avuto successo in Italia? Mannaggia la miseria... Eh sì... Perché molti ovviamente non si seguono sta serie... Perché non è un edificio horror... Non sanno veramente cosa si perdono... Sì... Oggi si giadi per forza... Io... Jill... Veramente... E LEA FAREA... NELLE BATTUTE... E tu sei quella che cerca di non ridere... Comunque sappiamo benissimo cosa potrebbe succedere... Se cuciniamo senza il suo permesso... Mi parebbe penzolare a testa in giù... Ehi ragazzone... Come ti chiami? Mario... Vieni Mario... Ti offro da bere... Magari ha ancora delle consegne da effettuare... Questa era l'ultima... Accetta la tua offerta... Prendo un Sunshine Cloud... E tu... Va bene così... Allora... Un Sunshine Cloud... Per il buon Mario... Anzi... Il buon Super Mario... Dove sta Luigi? Ragazzi... Che ridere prima... Col salsiccione del capo... E ha avuto questo onore... Da Dorothy... Da Dorothy... Chiamami Dorothy... Puoi anche chiamarmi tesoro... Al giusto prezzo... E niente... Sì Dorothy... Perché mi hai offerto un drink? Giusto per la cronaca... A me non piacciono le ragazze... Le ragazze... E le Lilim... Sono un uomo tra gli uomini... Mi piacciono gli uomini... Ok? Non che ci sia qualcosa di male... Se ti piacciono le donne... Ma... Oh non preoccuparti... Non volevo flirtare con te... Solo ringraziarti... Ringraziarmi... Il tuo pacco ha fatto ridere Dolcezza... Come una scema... Più facile di quanto pensi... Mi ha reso felice... Non so... Ma calzavo a pennello... Con il discorso di prima... Sono decisamente più tranquilla adesso... Felice di aver aiutato... Va bene... Il dovere chiama... Ciao Mario... Ciao John... Ciao Dolcezza... Goditi il tuo bel salsicciotto... Ciao... Il salsiccio... Noi siamo Jill... Sfinito... Noi siamo Mario... Ma... Ma siamo a fare cosplay oggi... Come funziona... Anzi... Dottor Jekyll e Mr Hyde... Ah... Non preoccuparti... Preferisci i ragazzi... È chiaro... A proposito... Ti piacciono le motociclette... Vero? Sì... Esatto... Sei mai stato nel distretto dei motori? Passo tutto il mio tempo... Libero nel distretto dei motori... Perché? È vero quello che dicono... Sulle corse illegali nella zona? Non sei un poliziotto... Vero? Per quanto mi ricordi... Per quanto mi ricordi no... Cioè sì... Ci sono corse illegali... Ma anche un campionato... Semi-legale... Ma non so cosa succede di preciso... Motore truccato... Feriti... Abuso di droghe... Ah ecco... Perché non stavo capendo Cristo... Perché mi aveva taggato... Le illegali sono più sicure alla fine... Hai mai sentito parlare di una... Motociclista di nome... Christine Love... Love ma c'è... Tutti la conoscono... Perché lo chiedi? È davvero così pericolosa la sua gang... Come dicono in giro... Non saprei... Nessuno lo sa... Come scusa... Sembrano minacciosi... Ma la verità è che... Nessuno ha mai usato... Confrontarsi con loro... O per meglio dire... Nessuno vuole subire... Una batosta... Se sono davvero tanto pericolosi... Quindi la sua gang esiste... Fanno le loro cose... Con aria minacciosa... Senza disturbare nessuno... Oh... Non dice qualcos'altro... Un piano... Ok... E piano man... Sì... Giro la vediamo... Quando ad esempio... Stiamo nella... 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 Nella propria casetta... A fine giornata lavorativa... Agitato e servito con ghiaccio... Eccolo qui... Il nostro piano... Ci credi? Ehi... Repribots... Repribot... Chi dice in giro... Che alcuni Lilim... Sono stati costruiti... Per sostituire... Per sostituire in maniera perfetta... Determinati esseri umani... Buon amore... Amore ma tu immagini... Potrei crearmi una mia Lilim... Formato Kaori... Con la codina e tutto... Orecchie da coniglietta... Che qualcuno o qualcosa... Stia rimpiazzando gli umani... Con questi Lilim... Per questo li chiamano... Repribots... Se per che cosa... In proposito... Se poi è stato... Ah... Questo l'ho ve lo leggendo... Ma sono là dopo... E vengono gli Aoi... Non proprio... Sono notizie che per trovare... La maggior parte delle riviste... Beh è la prima volta... Che ne sento parlare... E quindi... Mentre mi dirigevo... Da queste parti... Stavo per investire... Il mio vicino... E spuntato all'improvviso... In mezzo... Alla strada... E dico all'improvviso... Perché si è scansato... A gran velocità... Dopodiché... Sono andato a consegnare un pacco... Ed in qualche modo... Il mio vicino era lì... Un attimo dopo l'accaduto... Ed è stato lì tutto il tempo... Magari era qualcuno che gli somigliava... Aveva gli stessi abiti... Aspetto e movenze... Credimi... So riconoscere una replica... Perfetta quando la vedo... Ed hai visto la ragazzina Lilim... Che era qui... Poteva benissimo essere scambiata... Per un'umana... Ci sono persino cantanti Lilim... Oggigiorno... E le loro voci... Possono benissimo risultare... Identiche a quelle umane... Potrebbero fingersi umane... Sotto i nostri nasi... Rimpanzandoci poco a poco... Di questi tempi... Ne dubito... Il comportamento dei Lilim... È un po' diverso... Puoi benissimo accorgerti se qualcuno è un Lilim... Perché... Come dire... Se ne fregano di rischi e pericoli... Vedono il pericolo come una cosa da nulla... Comunque sta a tenda... Vieni d'occhio i Double Ganger... Ora vado... Grazie di tutto... Arrivederci... Cosa ne pensi di ReppiBot? Ci credi? Tu? Non direi... Ma ho chiesto io per prima... Quando ero allo Superiore... Avevo questa... Irrazionale paura degli alieni! Ah... Ero in paranoia per una loro possibile invasione... Come potevo comportarmi? Ricordo aver passato molte notti insonne per questo... Ma voi credete negli alieni? Bello come ha detto Jill... Guarda... Ma non mi risponde alle mie domande... E Jill risponde... Fammi finire! Amore come dici tu a me? No! Fammi finire! Amore sei tu! È perché non mi lasci mai finire di parlare... Fammi finire! Dopo sparare di me... Sono giunto ad una conclusione facilmente applicabile... Anche al tuo quesito... È inutile preoccuparsi... Sono solo una ragazza... Non potrei far nulla contro di loro... Quindi preferisco vivere senza tante preoccupazioni... Perché il mio ricordo di non essere preoccupato... Sarà la mia unica arma... Contro l'invasione dei granchi di Nebula... L'avevo letto granchi Nutella... Cioè... I ReppiBot... Jill... Hai ancora paura degli alieni? Quale parte di inutile preoccuparsi non hai capito? Giusto! Ecco... Mi è successo qualcosa? Ho scoperto di avere il senso dell'umorismo di una bambina... Qualcosa di nuovo intendo... Ehi! Te ne è recapitato un pacco... Ah sì! Il mio salsiccione! Un dono dalla mia gente! La sfinizione ha subito un ritardo... Ma ecco... Ne volete un po'? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Jill... Chi sa perché sta ritendo? Questa mia è nuova! Ha 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 ha! Ma vaffanculo va! Il giro si chiede se i manecchi in eco portano veramente fortuna. Comprarne uno le impedirà di distrarsi al lavoro. Pazzo, i manecchi in eco! For, è da ieri che sghignazzi! Jill... Salsicciotto! Oddio! Ragazzi, ma che capolavoro di gioco, veramente! Che capolavoro di gioco! 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 Grazie a tutti